Sembrano non preoccupare i dati delle polveri sottili a Cava dei Tirreni, anche se è necessario che venga attuato quanto prima un piano per abbassare i livelli di inquinamento atmosferico. La sollecitazione all'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Servalli, è arrivata nel corso dell'ultima seduta di Consiglio Comunale. Gli ultimi controlli strumentali registrati dall'ARPAC, i cui dati sono disponibili quotidianamente sul sito dell'agenzia, descrivono una situazione nella norma, con livelli di particolato, insieme cioè delle sostanze sospese in aria, come fibre, particelle carboniose, inquinanti liquidi e solidi, al di sotto delle massime giornaliere e annuali consentite. La presenza di inquinamento atmosferico a Cava dei Tirreni è stata attestata da numeri che si aggirano intorno ai 19 e 26 microgrammi di polveri sottili per metro cubo. Quel che manca è una speciazione, cioè un'analisi completa, delle tipologie di particelle emesse, rilevate dall'unica centralina installata nella zona dello stadio Simonetta Lamberti. Vorrei rassicurare i cittadini, non facciamo allarmismi. Lo scorso anno, nonostante le condizioni atmosferiche siano state poco favorevoli, quindi con scasse piogge, scasse precipitazioni, il livello è stato superato solo 26 volte rispetto al limite massimo di 35, quindi previsto dalla legislazione italiana. Fino ad oggi, fino al 29 febbraio, sono stati superati 4 volte. Noi abbiamo una centralina che è posizionata giù al Via Palumbo, che in tempo reale, quindi ogni giorno, ci fornisce dei dati attendibili sul PM10, quindi sulle polveri sottili. Nonostante ciò, però, stiamo intraprendendo una serie di azioni rivolte soprattutto sulla mobilità, ma anche sul controllo delle caldaie, che possono in qualche modo controllare questo fenomeno e quindi anche in qualche modo limitarlo. Grazie a tutti.